in prossimità della novena dell'immacolata domenico savio si presenta a don bosco e tra i due santi si svolge questo dialogo so che maria santissima concede grandi grazie a chi fa bene le sue novene disse san domenico e don bosco rispose e tu che cosa vuoi fare per lei in questa novena risposta io voglio fare molte cose prima di tutto voglio fare una confessione generale della mia vita poi voglio eseguire esattamente il fioretto di ogni giorno e regolarmi in modo da poter fare ogni mattina la santa comunione san domenico savio a questo punto tacque ma don bosco si accorse che avrebbe desiderato continuare il dialogo iniziato lo incoraggio quindi a proseguire non hai più niente d'altro sì ho ancora qualche cosa quale voglio fare una guerra micidiale al peccato mortale e altro voglio pregare tanto e tanto maria santissima che mi faccia piuttosto morire che lasciarmi cadere in un solo peccato veniale contro la modestia cioè contro la purezza don bosco commentò in seguito quel dialogo fu molto lungo il santo aveva l'arte di sapere ascoltare era una caratteristica tra le più spiccate in don bosco nel suo metodo educativo una meravigliosa capacità di ascoltare tutti soprattutto i giovani e con l'esempio anche le direttive degli educatori nel sistema preventivo una delle sue opere dedicate all'educazione scrisse si dia agio agli allievi di esprimere liberamente i loro pensieri il superiore li lasci parlare molto ma egli parli poco è molto rara l'arte di sapere ascoltare è un'arte che non si improvvisa richiede un lunghissimo allenamento al ragazzo va insegnata fin da piccolo alcune serie inchieste hanno mostrato dati alla mano che una comunicazione parlata perde il 75% del suo contenuto quando è rivolta a un gruppo di ascoltatori ciò vuol dire che il nostro rendimento di ascolto è appena del 25% vuole anche dire che noi di solito si ascolta con la sola metà di un orecchio zenone un vecchio filosofo greco diceva che all'uomo sono dati due orecchi e una sola lingua per fargli comprendere il primato dell'orecchio sulla lingua è un fatto che nella nostra vita di relazione con gli altri noi siamo costretti a dedicare il 40 per cento del nostro tempo ad ascoltare e 30 per cento a parlare voi sgridate spesso il ragazzo perché non vi ascolta insegnateli prima di tutto ad ascoltare dategli voi l'esempio ascoltatelo ascoltatelo spesso ascoltatelo sempre il ragazzo nel fatto di ascoltare vede quasi sempre una tensione insopportabile spossante una noia una specie di obbligo impostogli dall'esterno soprattutto a scuola l'insegnante lo richiama perché non ascolta i suoi genitori lo rimproverano perché non li ascolta occorre insegnare al ragazzo ad assumere di fronte a chi gli parla insegnante educatore familiare o superiore un atteggiamento attivo non un atteggiamento passivo o indifferente il ragazzo non deve essere come un muro che rinvia il suono o la luce la permeabilità della spugna è già qualcosa di meglio assorbe l'acqua appena la si immerge ma niente di più troppi ragazzi quando ascoltano sono così l'ideale è che il ragazzo impari a diventare come una magnifica sala da concerto o come un disco di alta fedeltà in cui tutti i suoni emessi dagli strumenti sono amplificati e quasi arricchiti dall'acustica occorre ascoltare con un interesse e un entusiasmo sempre nuovi e con l'anima aperta un animo contrario o indisposto o semplicemente sprovvisto di interesse di entusiasmo si mette nella situazione di non ascoltare o di ascoltare male ci fu chi scrisse di don bosco non ho mai incontrato uno che come don bosco mostrasse tanto interessamento a chi gli parlava ascoltava con pazienza con un'attenzione piena di generosità con una sollecitudine e una bontà perennemente vigile impariamo dei santi in particolar modo oggi da don bosco la virtù indispensabile dell'ascolto siano sempre lodati benedetti ringraziati e amati i santissimi nomi di dio di gesù di maria santissima e di san giuseppe grazie grazie grazie